I nostri operatori ecologici sono stati definiti fannulloni, anche se il sindaco poi fa pervenire una nota in cui dice io ho dati alla mano che ti simoniano un certo senteismo. Il sindaco dovrebbe innanzitutto ascoltare senza preclusione le organizzazioni sindacali, senza imposizione e senza definire queste persone fannulloni. Ricercare insieme a noi le vere cause delle carenze di questo servizio, che sono insite nel capitolato d'appalto che non tiene conto dei reali carichi di lavoro. Infatti uno di quelli che lui definisce fannulloni quotidianamente deve spazzare manualmente 30 km in linea d'aria. Quindi io non penso che questa persona meriti di essere definita fannullona. Un'altra situazione che denunciate è il fatto che da diverso tempo vi ritrovate contro sia il comune che contro le aziende stesse. Sì, diciamo che praticamente giornalmente dobbiamo lottare contro le aziende, comunque difendere questi lavoratori che non potendo compiere il loro dovere per il carico di lavoro si trovano delle lette di contestazione. Giornalmente andiamo a discutere questo, non possiamo parlare di sicurezza sui cantieri di lavoro, anzi abbiamo denunciato la mancanza di sicurezza su un cattiere di lavoro, di ecotecnica, al quale pensavamo anche che ci dovesse essere un intervento da parte del comune. Stranamente questo intervento non c'è stato. Come procederete? Ad oggi sono le 11 e ancora non abbiamo ricevuto notizia di una convocazione da parte del sindaco il quale si ha detto avere un'agenda molto impegnata. Quindi molto probabilmente proclameremo a distanza di 10 giorni un ulteriore sciopero che durerà due giorni. E poi vedremo, innanzitutto domani avremo anche un'assemblea di due ore nelle due aziende per fare il punto insieme ai lavoratori. Ha sottolineato però che oggi il servizio di base è stato comunque garantito. Sì, ovviamente la legge della 146-90 ci obbliga a far uscire, ma è normale, i servizi essenziali. Non si possono interrompere i servizi presso gli ospedali, caserme, tutti quei siti sensibili che hanno bisogno comunque ovviamente della polizia. Queste persone quotidianamente oltre a essere controllati come è giusto che sia dai responsabili aziendali si vedono anche vessati dai controlli dell'amministrazione comunale che invece non si cura per niente di andare a verificare se i servizi vengono svolti correttamente dalle aziende. Quindi vessano i lavoratori ma non pensano a nient'altro. Sott'accusa anche un'assunzione di quinto livello? Certo, perché questa è stata sempre nascosta. Ci racconti i fatti? Ci racconti i fatti, c'è stato fatto un accordo tra comune aziende e sindacati che non si dovevano assumere delle qualifiche superiori al secondo livello perché c'era un esupero già di qualifiche. Senonché poi la Ditax si è permesso ad assumere una persona di quinto livello quando non ce n'era bisogno e non si sa il perché dopo tante volte che noi abbiamo chiesti chiarimenti l'azienda ha sempre negato di questo però oggi ce lo troviamo in azienda. Da quanto tempo? Eh, già in azienda un paio di mesi che lo vediamo che opera. E di modo, nel sindaco, nell'assessore, nessuno si è preoccupato di questa cosa. Evidentemente, qua non si sono resi conti. Un consiglio solo volevo dare io ai politici leccesi, sia alla sinistra che alla destra. Stiamo attenti perché c'è un imprenditore leccese che li ha messi in mezzo perché prende per festo tutto il lavoro.